Rivolgo un appello ai piemontesi, in questo momento è importante la collaborazione di tutti. Sono giorni molto difficili per il nostro servizio sanitario regionale. Anche un piccolo gesto diventa importante, chi può in questo momento deve donare. È un dovere civico, una chiamata al senso di responsabilità e solidarietà. Grazie a tutti.